Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti. Resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Si è innamorato dell'Italia, della sua cultura, delle sue donne e soprattutto della mole di lavoro che ha ottenuto lì. E il suo amore per l'Italia a quanto pare ricambia l'attore turco in quanto è una delle personalità più influenti del paese, che ha conquistato l'amore di tutti gli italiani. Abbiamo visto tutto di lei, i suoi partner, i suoi permessi, persino come ha comprato un anello di fidanzamento per una delle sue amiche. Diamo quindi un'occhiata a tutte le stanze della casa di Can Yaman a Roma. La cucina di Can Yaman è descritta in questo pezzo informativo, che secondo Yaman presterà la sua immagine per un'iniziativa di solidarietà. Ok, la tua cucina non è enorme, ma è ordinata. Ci sono mobili bianchi, un frigorifero americano bianco e un Can Yaman che non potrebbe essere più bello mentre cucina gli spaghetti. Tutte le stanze della casa erano bianche e il soggiorno non sarebbe stato da meno. Le pareti sono decorate con modanature che conferiscono alla casa un aspetto magnifico ed elegante. Ma attenzione, Can Yaman ha deciso che il soggiorno di casa sua debba essere polivalente. Vale come palestra. E attenzione, Can Yaman ha dei libri sugli scaffali. Amarlo di più o non amarlo. Una tv appesa al muro e collegata a un aim è che tutto ciò di cui hai bisogno per goderti film, programmi tv e musica nel tuo salotto. Can Yaman treni, treni e treni. Giorno e notte. Ma sì, quando il sole tramonta, l'ambientazione della stanza cambia completamente grazie ad alcune lampade a led sul soffitto che riflettono le galassie. Ecco quanto è bello sudare. Un altro uso per il tuo soggiorno è come studio e lettura di sceneggiature. O come area relax dove Can Yaman può fumare un arghile o un arghile mentre si gode dalla finestra la vista del Colosseo Romano. Ora andiamo in una delle stanze più sconosciute della casa di Can Yaman, la camera da letto. Qui vediamo un letto king size in stile minimalista, coronato di bianchi e grandi cuscini, dove Can Yaman si riposa dopo tutto il ritmo dello sport e delle sparatorie quotidiane. E proprio accanto alla stanza c'è un'altra stanza che nessuno conosce. Il camerino di Can Yaman Se pensavi che gli spogliatoi fossero per ragazze, dai un'occhiata agli spogliatoi preparati dal nostro attore turco preferito. Per non avere problemi con la scelta dei vestiti, Can Yaman sostiene i suoi vestiti con più di un cavalletto. Naturalmente, consigliamo una scarpiera da qui, che ci dà un disturbo ossessivo compulsivo solo vedendo tutte le scarpe sul pavimento. Grazie. 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 Grazie.